Ci siamo nel frattempo perché le operazioni si sono velocemente concluse, escono gli ultimi lez, si aprono le gabbie, partiti i cavalli, premio Unione, proprietari, galop, edizione 20-24. Andiamo subito alle prime mosse, Spark and Allot apre le gabbie partendo subito velocissimo e portandosi a condurre, anche meno, con la giuba gialla segue in seconda posizione, Terrible Land è quello che galoppa in terza posizione, con la giuba celeste c'è invece What You Can a precedere dall'interno verso l'esterno, un quartetto formato da Win the Best, Charlie Giamboré, Love Revolution, Man in Promise, dietro a questi c'è Renegade, poi ancora Frozen Juke, Self Praise, Blue d'Incanto, poi troviamo anche la figura di Royal Status canticchiando che chiude il gruppo dei partecipanti, in mezzo ai cavalli c'è anche a gonfie vele, corsa ritmata in avanti da Spark La Lotta che entra indirittura sempre leader con What You Can che ringhia i suoi fianchi, in terza corsia c'è Man in Promise, in quarta impacchettato all'interno c'è anche meno, poi per corsia esterne si fanno sotto Renegade, Love Revolution, ancora più all'esterno, se ci spostiamo al centro della pista c'è Self Praise che attacca cattivo, insieme allo stesso Frozen Juke ci sono quattro cavalli a lottare con Renegade che è definitivamente passato in vantaggio, dall'esterno ci prova Self Praise, rimane in contatto anche Frozen Juke all'interno non cambia marcia Man in Promise, ci prova Terrible Land dall'esterno, si sta involando canticchiando, canticchiando che va ad aggredire Renegade nel tratto conclusivo lo giustizia, sportivamente parlando, che fiondata, una grande fiondata da parte di canticchiando come al solito riuscito nella sua impresa titanica ma anche cubica ed inespugnabile ci verrebbe da dire, canticchiando finisce fortissimo e risolve con un finale ad effetto importante per lui, decima vittoria in carriera in 41 corse disputate il 6 anni da Ravens Pass, è allenato da Marco Gasparini, i colori sono quelli di Francesca Turri, l'interpretazione magistrale, confident, è di Marsella con Marcai, uno al primo posto canticchiando al secondo numero 7 Renegade e poi al terzo il numero 3 Frozen Juke, 173 è l'ordine d'arrivo ufficioso numerico e probabile della penultima corsa di quest'oggi a Capannelle, linea allo studio centrale. Grazie. 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 Grazie.